A Francavilla al mare non c'è più l'ambulanza medicalizzata. La decisione è stata infatti presa dall'ASL in virtù della carenza di personale che sta interessando i medici del 118. Il sindaco della cittadina adriatica Luisa Russo chiede il ripristino immediato. Sono assolutamente contraria a questa decisione che deriva da una carenza di medici del 118, carenza che riguarda tutto il territorio regionale anche in altre regioni d'Italia, ma assolutamente bisogna lavorare per non lasciare il territorio di Francavilla sfornito, soprattutto nell'estate in cui la popolazione da 26.000 abitanti arriva a 70-80.000 abitanti. Nei mesi estivi, va detto, rimarrà attiva soltanto l'ambulanza con infermiera a bordo, ma se sarà necessaria la presenza di un medico l'ambulanza dovrà arrivare da Ortona o in alternativa da Pescara o da Chieti. Sicuramente bisogna lavorare per reperire il personale medico del 118 ed è sicuramente un lavoro che bisogna fare insomma su tutto il territorio. Nel frattempo ci si potrebbe avvalere anche di associazioni di volontariato tipo Croce Rossa, Croce Gialla che potrebbero intervenire per i codici verdi e far sì che poi l'ambulanza con il medico intervenga per i codici più importanti. Padovani ha fissato un incontro con il direttore della ASL di Chieti e cosa pensa di poter ottenere? Sono tante le questioni di cui dobbiamo discutere, anche dei lavori che dovrebbero partire a breve di ristrutturazione del fabbricato dell'ex padovano dato o incomodato d'uso per l'ospedale di comunità e poi proprio durante questi lavori di ristrutturazione c'era l'esigenza di spostare il centro vaccinale che era lì e che attualmente si trova a San Giovanni Tiatino quindi con un impoverimento di servizi nei confronti dei nostri cittadini che dovrebbe temporaneamente stare in un altro immobile comunale nel quale si trova attualmente il consultorio. Si tratta di mettere in ordine un pochino tutto, vedere a che punto si trova la ASL sull'organizzazione di questi servizi e continuerò a insistere affinché nessun servizio venga tolto ai cittadini di Francavilla.